le infrastrutture dei trasporti. Matteo Salvini, prego. Grazie, è una bella giornata, soprattutto per noi milanesi che ci mettiamo sulla quattro svincolo viale certose quando accendi iso radio, tanto la risposta è sempre la stessa code nello svincolo. Grazie perché questa sarà una quarta corsia dinamica in sicurezza, perché molti oggi la usano autogestita, c'è già una quarta corsia dinamica sostanzialmente sui generis di cui si occupa la Polizia Stradale. Grazie perché, lo ricordava Tomasi, a settembre ci sarà il centenario della prima autostrada a pedaggio del mondo, la Milano Laghi, siamo stati a fare un soprologo sulla quinta corsia e quindi non so in quale giorno di settembre, però se scegliamo il 21 settembre è San Matteo, quindi se riusciamo a unire l'utile al direttevole. Grazie perché fermare il futuro non è possibile. Poi il futuro ovviamente è tecnologicamente neutrale. Il futuro non è ideologico, il futuro non è solo elettrico, è anche elettrico. Io sono stato sull'Ardiatina all'inaugurazione della prima stazione ricarica per auto a idrogeno, quindi dire solo elettrico è una fesseria, senza senso, significa fare un regalo a una potenza non propriamente democratica che sta dall'altra parte del mondo, sicuramente è anche elettrico, però la Lombardia vedrà la partenza e l'arrivo del primo treno a idrogeno sulla Brescia Iseo-Edolo. E quindi poi ci sono biomasse, ci sono biocarburanti, ci sono biocombustibili, ci sono assolutamente ecocompatibili, impatto zero. Quindi l'importante è che l'ideologia non neghi nessuna fonte di alimentazione. Aggiungo io, chiederò nei prossimi giorni ai ministri competenti un tavolo tecnico sul nucleare, perché ovviamente sul fronte della neutralità tecnologica non possiamo dire di no pregiudizialmente a nessuna fonte energetica. Stavo messaggiando col Ministero in questi minuti perché a proposito di futuro io ringrazio chi governa questo splendido territorio dai sindaci che sono fondamentali a Regione Lombardia, perché si sta vivendo uno sviluppo inarrestabile, fortunatamente che va al di là della politica dei partiti, perché la metro di Milano la tramvia Milano-Limbiate, che si farà, i soldi li stiamo cercando e non andiamo a cercare responsabilità. Nel passato non mi interessa, io guardo al futuro l'estensione di nuove linee della metropolitana e penso a quella che è l'area post-expo. Io sto sostenendo la candidatura di Expo a Roma 2030 perché Milano è stato un esempio virtuoso di riutilizzo positivo di una grande area dopo un grande evento che di solito in Italia basta tornare ai mondiali di calcio e non solo di calcio lasciano in eredità solo problemi. Milano-Olimpica, Milano-Cortina, Olimpia di 2026, che vuol dire tante strade annesse e connesse, anche non legate alle Olimpiadi, la variante di Tirano. Ad esempio, penso ai lavori sulla Tremezzina, nel Comasco. Io oggi torno al Ministero e conto di chiudere il dossier su un ponte, che non è quello su cui stiamo investendo denaro ed energia ed entusiasmo e passione, i cui lavori, conto, partiranno l'estate prossima, ma è quello di San Benedetto Pone, il Mantovano, che è altrettanto importante per quello che mi riguarda. C'è l'alta velocità, sono stato allonato, la Brescia, Verona, Vicenza. Ovviamente dobbiamo considerare che per fortuna dei concessionari tra l'80 e il 90% delle merci viaggia su gomma. Noi possiamo fare alta velocità la Napoli-Bari, la Palermo-Messina, la Brescia-Vicenza, progettare anche nuove linee, il tunnel di base del Brenner o la TAV, tutti i lavori che dovrebbero vedere il primo treno passare nel 2032, però ovviamente la gomma non è facilmente sostituibile. Quindi bisogna permettere a chi viaggia per lavoro, per vacanza o per diletto di poterlo fare in sicurezza. Quindi grazie per questo primo chilometro e mezzo e vi accompagneremo, se non ricordo male, entro il 2024, l'intera tratta che per milanesi e lombardi, Certosa, Cormano, Sesto, significa ore e ore e ore e ore di vita passata in macchina. Codice della strada, dicevamo, che comincerà il suo percorso alla Camera e potrà essere arricchito dai contributi sindaci, associazioni, sindacati, imprese, che però mira a portare più educazione, più rispetto, più regole, più controlli e più vita sulle strade italiane. Il codice degli appalti è già in mano ai sindaci da una settimana e conto che possa essere virtuosamente usato per perdere meno tempo in appalti, aprire più velocemente cantieri. Poi bisogna usare il buonsenso, poi ovviamente il buonsenso non c'è per decreto e sto pensando agli scioperi previsti a metà luglio nel cuore di una stagione turistica che sarà il boom del Paese, sciopero dei treni giovedì e sciopero negli aeroporti sabato. Io non ci sto dormendo, ci sto lavorando, oggi ho sentito imprese, domani incontro i sindacati e mi auguro che un momento dopo i drammi del Covid di ripartenza entusiasmante per il nostro Paese non venga bloccato, sminuito, danneggiato da micro rivendicazioni che in molti casi sono pretestuose. E quindi buon per la A4 che vedrà, però eravamo in sala operativa già in questo momento ed è martedì, siamo se non ricordo male all'86% di saturazione. Ecco, oltre il 100% non si riesce andare, quindi farò di tutto e lo dico ai colleghi giornalisti nelle prossime ore e prenderò una decisione entro stasera sugli scioperi convocati per giovedì e per sabato perché tutti usino il buonsenso, perché le parti si mettano un tavolo, perché datori e lavoratori cercano di trovare una soluzione, un accordo positivo per tutti, perché lasciare a piedi decine di migliaia di lavoratori, di lavoratrici e di turisti nel pieno del luglio del boom turistico italiano sarebbe veramente una cosa inaccettabile. Quindi conto di trovare una soluzione positiva per le imprese e per i lavoratori col dialogo. Se fosse necessario un intervento più diretto da parte del Ministero non nego alcuna possibilità di intervento perché, ripeto, c'è una situazione economica positiva per molti, non per tutti, che va accompagnata, va sostenuta. Il cantiere di questa mattina significa che la gente sta viaggiando, sta commerciando. Non mi interessano le classifiche, però vedevo che sia Milano che la Lombardia non sono in pessima condizione per quanto riguarda il gradimento e io ho l'onore di guidare un Ministero che ovviamente è aperto alle porte di tutti i sindaci, di tutti i governatori, di tutte le associazioni, di tutti i sindacati perché un ponte non ha colore, una Quartocorsia non ha colore, un viadotto, una galleria non hanno colore. Spero che Aspi, mi vedo più spesso con Tomasi che con i miei genitori ultimamente, riesca a mettere a terra i miliardi di euro di cantieri che ci sono su carta. Stiamo parlando della Gronda di Genova, del Passante di Bologna, del Nodo di Firenze, della Dorsale Adriatica e conto che il buonsenso, e vado a chiudere di cui parlavo e che chiederò ai sindacati e alle imprese su ferro e in aria, possa coinvolgere anche tutte le imprese private di cui abbiamo assolutamente bisogno per far crescere il Paese. Quindi conto che anche i fondi di investimento stranieri, che nel calcio come le infrastrutture ovviamente vengono qua per fare business e fare business, fare profitto in un'economia libera, liberale di mercato, non è riprovevole, anzi è auspicabile, però quando si parla di investire in infrastrutture, ecco magari guardare solo ai dividendi economici e non ai dividendi ambientali e sociali non è la strada giusta. Quindi un euro investito in infrastrutture significa più sicurezza, più lavoro e più fatturato anche domani. Quindi io conto che siano settimane e mesi di buonsenso da parte di tutti e quindi sono ben contento della operazione di questa mattina. Non sono, perché a me piace mantenere l'impegno, ci sarà un altro tavolo, lo dico agli amministratori locali alle 13.30, c'è la cabina di regia sul PNRR a Roma, io mando, essendo qua ovviamente, il Vice Ministro Rixi e il Capo di Gabinetto, perché conto che con oggi si chiuda anche il discorso rimodulazione, terza rata, quarta rata, quinta rata, sesta rata, quindi si mettano a terra e si spendano bene tutti i soldi che abbiamo chiesto in prestito. Poi ovviamente ci sono alcune riflessioni che farò con i colleghi ministri a proposito della sostenibilità. Vedevo il risparmio in termini mancate emissioni di CO2. Noi abbiamo ad esempio preso un impegno con i comuni per un bando che io ereditato e stiamo portando avanti per la messa in circolazione degli autobus elettrici. Cosa buona e giusta, 3.000 autobus elettrici entro giugno 2026 immatricolati e in circolazione? Piccolo problema di chi ha messo giù il bando, però io ripeto non posso intervenire sul passato ma posso ragionare sul presente e modificare il futuro. Il problema che mi pongo da cittadino italiano è che 2.000 di questi 3.000 autobus elettrici che noi paghiamo con soldi che prendiamo a prestito dall'Europa non vengono prodotti in Lombardia, non vengono prodotti in Italia ma li compriamo dalla Cina. Quindi quanto sia intelligente nel nome della sostenibilità ambientale mettere a terra 3.000 autobus elettrici in circolazione che io compro a Pechino dove per produrli aprono centrali a carbone è un dibattito ambientalmente, socialmente, economicamente stimolante perché noi magari ridurremo dello 0,01 le emissioni a Milano, in Lombardia e in Italia, però ovviamente il CO2 non ha confini, non si ferma col telepass dicendo sono il CO2 prodotto in Cina per farvi andare in giro con l'auto elettrica a Milano. Quindi ci vuole un ragionamento più complessivo, meno ideologico e più complessivo perché per me il bene del Paese significa la quarta corsia ma significa anche far lavorare le imprese e i lavoratori italiani. Mi seccherebbe che quei soldi presi a prestito come Italia finanziassimo le centrali a carbone che aprono in Cina. Era una mia riflessione che volevo condividere con voi. Buon lavoro e buon viaggio sulla A4. Grazie. 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 Grazie.